E' importante ovviamente che le donne arriviamo ovunque, siamo una metà della popolazione quindi è un argomento di giustizia fondamentale di democrazia che le donne pian piano dobbiamo arrivare ai posti dove prima non c'eravamo e quindi ovviamente è normale che Virginia fosse la sindaca donna, è strano che fosse la prima, probabilmente in futuro ce ne saranno altre, è anche strano che una città come Barcellona, moderna, democratica, innovativa per tradizione io fosse la prima donna sindaca, quindi le donne dobbiamo avere il diritto di arrivare ovunque anche sindaca, presidente e nei luoghi di decisione, però con questo non basta, poi quando arrivi lì devi dimostrare con i fatti il tuo programma e devi far sentire i valori, i valori sociali, i valori di innovazione, di trasformazione, di creare opportunità, posti di lavoro e questa è l'azione politica, sia donne che uomini, quando arriviamo ai posti dobbiamo fare le politiche e lì non tutte le donne siamo uguali, non è che per il fatto di essere donna dobbiamo essere più vicine, quindi io difendo il diritto e la necessità che tutte le donne arrivano ovunque, anche come sindaca di Roma e di Barcellona, ma poi la cosa importante è che sono le politiche che si fanno e in questo devo dire che con Roberto abbiamo visto che abbiamo una condivisione di obiettivi, di proposte per la trasformazione della città e sono convinta che sarà il miglior sindaco di Roma di cui si potrebbe parlare. Sì sì, perché poi lo dicevo prima, Roma è una città importantissima di cui abbiamo imparato tanto in passato, è un riferimento democratico, è una città dell'arte, della cultura, delle idee e quindi ci mancava Roma un po', perché Barcellona che è una città che ha una forte presenza internazionale, perché poi le grandi sfide che le grandi città dobbiamo risolvere come l'emergenza climatica, la lotta contro le disuguaglianze, la transizione digitale, questa è una sfida globale che si deve risolvere localmente e quindi lavorare insieme in reti internazionali anche per far pressione alla Commissione europea, alle Nazioni Unite per cercare la collaborazione degli stati, per avere le risorse, il finanziamento è fondamentale per noi lavorare insieme e quindi sono molto importante la diplomazia internazionale delle città. E lì Barcellona è molto attiva, abbiamo incontrato spesso Beppe Salle di Milano per esempio, però invece Roma ci mancava, è strano che Roma non avesse questa presenza internazionale, quindi secondo me bisogna riparare questa assenza e Roberto poi ha questo profilo perché lui ha una forte esperienza europea, conosce bene l'Europa e sono convinta che su questo può dare una spinta molto, molto positiva. Però posso dire che invece nelle proposte che fa Roberto incontro una sintonia 100% con le proposte che abbiamo fatto e che stiamo portando in pratica a Barcellona. Noi penso che dobbiamo collaborare su tutti i piani perché sono tutti importanti, il piano sociale, di fare non solo più investimento sociale, più aiuti, ma soprattutto più politica innovativa, come questa che dicevo, la strategia contro la solitudine e lavorare nella salute ambientale. Noi per esempio abbiamo un psicologo, particolarmente per i giovani in ogni quartiere, anche l'argomento della casa, che è un argomento fondamentale in città, quindi questo è fondamentale perché sono i diritti fondamentali della popolazione, ma poi bisogna anche trasformare, fare strategie di futuro. In questo senso trasformare la città, prepararla anche per un'emergenza climatica, per guadagnare qualità di vita e benessere e quindi per fare dei quartieri più verdi, più belli, più politi, dove fare vita comunitaria e questo rende la città più forte e quindi la trasformazione urbanistica dei quartieri è un argomento fondamentale. E poi anche l'innovazione di futuro tecnologica che sia al servizio della democrazia di tutti i cittadini e non solo dei pochi e quindi secondo me anche l'argomento della scienza, la cultura, la tecnologia come strategia di futuro per la città e sono argomenti su cui Roma ha un talento ovvio e tante cose simili a Barcellona, sono diversi piani, diversi livelli ma tutti fondamentali e secondo me possiamo fare tantissimi progetti in comune.